A noi piace presentare al pubblico questa residenza attraverso le nostre visite guidate, proprio per far capire qual è il significato sociale, socioculturale del castello che è fortemente legato al territorio. Non è solo una questione di vicinanza fra le case della città di Racconigi con il castello, perché molte finestre si affacciano direttamente sul parco, ma anche proprio sulle sale e sulle stanze del castello. Un luogo non tanto da visitare quanto un luogo da vivere. Non ci piace pensare ad un turismo del mordi e fuggi, ma una politica di appropriazione di questo bene che è di tutti i cittadini. Grazie